ciao a tutti ragazzi ben trovati in questa nuova video analisi oggi vediamo subito i grafici di icp e shiba inu che sono realmente in caduta libera ovviamente queste sono le mie analisi perciò non sono consigli finanziari ma la visione sul mercato di cripto in questo momento proprio specifico abbiamo un internet computer coin che sta io avevo visto la possibilità diciamo di una eventuale ripartenza in quest'area qui avevo indicato l'altro giorno questa resistenza però non è stata rotta a rialzo anzi è stata ben sentita per poi riprendere la corsa ribasso rotto anche il supporto che ha provato a tenere ma invece non c'è stato nulla da fare e quindi abbiamo di fronte a noi un trend fortemente ribassista su icp questo cosa vuol dire ecco io ho già letto commenti di alcuni di voi dicendo e io comunque sono entrato comprato a prescindere perché è un bel progetto c'è comunque margine ragazzi queste sono tutte belle chiacchiere al momento il trend è ribassista perciò andare ad acquistare su un trend ribassista è comunque sempre un grosso rischio cosa importante quando facciamo un certo tipo di diciamo di discorso sulle cripto è quello di seguire il trend quindi lavorare bene con il trend perché praticamente è la cosa più importante per non farsi male quindi mi raccomando cerchiamo sempre di essere il più possibile oggettivi quando siamo sui mercati poi altra cripto molto discusse in questi giorni allora è shiba inu che tanti mi hanno detto è no perché sai no perché sai no perché sai e praticamente shiba inu continua a scendere il trend era ribassista ve lo zoom di nuovo c'erano queste zone che io reputavo molto importanti non sono state per niente superate e di conseguenza shiba inu continua a perdere punti percentuali quindi se qualcuno di voi non fosse in accordo con me beh mi dispiace perché io non parlo con le mie idee ma io parlo da ciò che il grafico mi mostra quindi se avessi visto uno shiba inu ripartenza ve lo avrei detto quindi intanto ringrazio tutti quelli che sono diciamo che sono costanti nel seguire le mie analisi tutti quelli che si sono iscritti al canale e chi si iscriverà al canale però voglio anche rivolgermi a quelli che sono magari in disaccordo perché giustamente ci sta ricordandogli che c'è un aspetto sul quale non si può discutere troppo che è quello che dice il mercato se il mercato ci dice che stiamo andando giù io sul titolo scrivo caduta libera e lo dico anche nel video perché shiba inu sta adesso in caduta libera quindi questa è una frase un po diciamo un po rubata al mondo del trading prendere un coltello che sta accadendo può senza dubbio crearci più problemi in quanto potrebbe tagliarci in questo caso shiba inu è un grosso rischio quindi investire o comunque acquistare shiba inu è un grosso rischio aspettiamo che ci sia una reale inversione al momento non c'è stata perciò nulla da aggiungere insomma iscrivetevi al canale ci vediamo poi martedì per la diretta delle 6 e mezza ormai appuntamento consueto quindi vi voglio belli presenti carichi e partecipi perché vedremo le vostre cripto preferite ciao e buona domenica